Grazie a tutti. No, Guido. No, 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 no. Basta. Guarda. Guarda. Eh? Ah. E come ho chiesto a fuori. Noi, a fare i bagni, quando era una piccola naria, lì, venevamo qui, al dietro. Venevamo qui al dietro, quando era un ciccolo c'era. Da Marsico? Da Marsico venevamo qui al mare. È più vicino. Pietri sul mare. Pietri sul mare. Siamo lì. Eh, vedi. Non per asperare. Vedi, vedi il paese. È bello a fermare qua. È bello a fermare. Sì, è chiaro. È bellissima, bellissima. Facciamo due fermate. Questa è un'altra. Ma sì, la faremo. Come questo? Bueno, parlami che. Dove stiamo? Stiamo a Vietri sul mare. Sì. È vicino a Salerno. Sì. Vietri sul mare. Stiamo a Cammino a Marsico Nuovo. Stiamo a Cammino a Marsico Nuovo. Questo è un posto bellissimo. Stiamo facendo una gara galica delle imbarcazioni. È una gara. Ah, sì, sì, sì. Guarda, guardate le spiagge. Oggi è domenica, ricordiamo. Che è una corsa quella. Abbiamo fatto una fermata nella strada. Salute, salute a tutti. Ritorniamo. Salute, salute. Salute a tutti in Argentina. Adios. Oh, yeah. Guarda, gandini.